Ancora pericoli invisibili nelle nostre strade. Un dissesto strutturale lungo la via Cristoforo Colombo allo struttuale interessata da lavori finalizzati alla messa in posa di cavi costituisce una condizione di potenziale pericolo. Una sorta di cratere si registra all'altezza del secondo ingresso dell'area di protezione civile. Al di là dell'esecuzione dei lavori sicuramente indispensabili non andrebbe tralasciata la sicurezza degli utenti della strada. Sarebbe opportuna quantomeno l'installazione di un segnale stradale di pericolo o come minimo di un cono stradale per avvisare del dissesto, peraltro assai profondo. Per il resto nelle strade del centro urbano la situazione non è delle migliori e a breve ce ne occuperemo con un servizio più dettagliato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.